La presentazione del calendario storico dell'Agenda 2018 dell'Arma dei Carabinieri si è svolta oggi nella caserma di Sassari con il comandante Luca Corbellotti. Il calendario, presentato ufficialmente il 6 novembre al Maxi di Roma, sceglie quest'anno di raffigurare i valori etici e sociali dell'Arma. Nella realizzazione del progetto sono stati coinvolti un gruppo di artisti contemporanei provenienti da tutto il mondo, tra i quali Adrian Paci, Adela Di Bin, Paolo Unditti e Mark Bradford. L'impegno sociale per l'ambiente, la tutela dalle categorie deboli e l'integrazione multiculturale sono alcuni degli argomenti scelti dagli artisti al fine di rendere omaggio ai valori dell'Arma. Le tavole sono inoltre accompagnate dai testi di Filippo D'Averio e Bartolomeo Pietro Marchi, direttore del Museo Nazionale delle Arti del XX secolo. La copertina è stata invece realizzata dal pittore italiano Gonespolo. Il calendario ha raggiunto una tiratura di oltre un milione di copie ed è stato tradotto in 11.000 lingue, tra le quali il sardo.